Lo studio fotografico Top Photo di Mozzecane in collaborazione con Junior Photo Planet propone servizi fotografici ad alto contenuto emozionale, coinvolgendo i vostri bambini in un'esperienza giocosa, divertente, unica nel suo genere. L'emozione più grande è vedere la gioia di un bambino che uscendo da Top Photo sa di aver trovato dei nuovi amici da cui tornare.